Quindi Don Leonardo la ringraziamo di aver accolto questo nostro invito e quindi le lascerei proprio la parola per un commento di questi tre messaggi di Gesù a San Martino di Schio. Grazie Oscar, certo i messaggi vediamo se riusciamo, vediamo quanto tempo ci abbiamo perché poi non so che fine faccio, comincio dal primo, poi quando è ora mi potete tranquillamente imbavagliare perché poi vediamo un po' come va. Il primo è dell'8 settembre del 1995, io se siete d'accordo lo leggerei prima e poi vediamo di cogliere qualche aspetto molto importante a mio avviso. Vi benedico in quest'ora di grazia, miei cari le vostre menti sono piccole, non potete comprendere l'immensità del piano d'amore del padre che trova difficoltà a realizzarsi. Sia per prudenza sia per obbedienza, troppe cose sono state tasciute per anni da molti che erano stati invitati a parlare. Oggi il mondo deve conoscere e deve sapere Dio vuole rivelare al mondo intero l'epifania di Maria. Dio vuole rivelare al mondo la grandezza, dico lei, che è l'immacolata. È un grande dono d'amore, Maria. Madre del Salvatore vostro, lei è anche madre della vostra salvezza. E di salvezza oggi il mondo ne ha tanto bisogno. Miei cari, voi siete gli strumenti di Dio. Quando Dio vuole si tace, quando Dio vuole si parla. E questa è l'ora della comunicazione. Non vogliatemi essere infedeli, ne andrebbe di mezzo tanta gloria di Dio. Ora a voi il discernimento per poter obbedire a Dio e il discernimento per obbedire agli uomini. Miei discepoli, sempre obbedite a Dio. Agli uomini obbedite solo quando questi sono in piena comunione con Dio. Siate servitori di Dio. Ancora vi benedico. Allora, qui siamo su Radio Colbe. Io conosco abbastanza bene gli iscritti di San Massimiliano Maria Colbe perché anche tutta quanta la mia attività multimediale non ci sarebbe stata se non avessi subito l'influenza di questo grande santo che ebbe la geniale intuizione di intraprendere l'evangelizzazione attraverso gli strumenti di comunicazione sociale, quelli che c'erano nei suoi tempi, soprattutto la stampa c'erano nei suoi tempi. Le tipografie rette, animate e portate avanti dai frati, si vedono anche le foto d'epoca, sono veramente commoventi. Lui diceva una cosa, sono passati quasi duemila anni ma di Maria non è stato detto quasi nulla e non sappiamo quasi nulla di lei. Ai suoi tempi non era stato ancora fatto il dogma dell'assunzione, era stato fatto il dogma dell'Immacolata. Però Maria non è abbastanza conosciuta, neanche adesso, lo disse San Luigi Maria Onfort a cavallo tra la fine del 1600 e i primi del 1700, ma adesso la situazione è uguale. Qui ci sono sicuramente alcune cose in cui si fa riferimento direttamente all'Immacolata. Sia per prudenza, sia per obbedienza, troppe cose sono state tasciute per anni da molti che erano stati invitati a parlare. I messaggi del cielo sono sempre fatti così, come è giusto che siano. Quindi ti dicono il contenuto in un certo ambito in maniera generica, poi è la riflessione e l'intelligenza di chi legge a cercare di comprendere. Questo è sempre così. Quindi questo è anche un ottimo segnale indice di riconoscimento della natura soprannaturale, dei messaggi, perché è uno stile noto. La Sagra Scrittura è fatta tutta così, fondamentalmente. Quindi cose tasciute per anni, Dio vuole rilevare al mondo l'epifania di Maria, dice, la grandezza di colei che è l'Immacolata. Quindi vuol dire che c'è probabilmente in prima battuta una denuncia, diciamo così, di un peccato, di omissione riguardante Maria Santissima. Qui chiaramente chi è che deve parlare di queste cose qui, perché i santi e i maestri di spirito hanno parlato, però, e poi devono parlare anche autorevolmente. Voi sapete che io, personalmente, però potrebbe essere una mia illazione, anche perché qui si fa riferimento alla madre della vostra salvezza. È tempo dell'epifania di Maria la grandezza di colei che è l'Immacolata, no? Io potrei sbagliarmi, ma una allusione alla corredenzione, che sappiamo benissimo essere un argomento, specialmente oggi, contrastato come non mai, ma io sono sicurissimo, l'ho detto in tantissime circostanze, che è solo questione di tempo, perché il quinto dogma sicuramente si farà, perché i dogmi mariani sono cinque, sono sicuramente al cento per cento, senza nessunissimo dubbio. Cioè, il 5 d'agosto è stato il giorno scelto da Maria Santissima, adesso a prescindere da alcune cose, per fare la sua basilica in occidente, perché il 5 d'agosto è stata nevigata a Roma, e io ho imparato che il cielo non fa niente a caso. Gli dogmi pro loro sono fermi a 4, ma anche i misteri di ogni corona del Rosario sono 5, quindi le piaghe di nostro Signore sono 5, quindi Dio è un artista proprio preciso, quindi ce ne manca uno. Fa allusione a questo? Non si sa, però a mio avviso madre del Salvatore vostro, lei è anche madre della vostra salvezza, no? Salvatore vuol dire Redentore, madre della vostra salvezza, che significa madre della vostra salvezza, vuol dire che dentro la vostra salvezza c'entro anch'io, cioè, la corredenzione in senso stretto, questo lo spiega bene neanche San Massimiliano e non solo lui, la corredenzione significa riconoscere che Maria, non perché Dio ne avesse bisogno, questo è stato una disposizione volontaria della Divina Volontà, dovuta a ragioni di convenienza, quindi, siccome il primo peccato l'hanno fatto da Medeva, quindi, la donna comincia e l'uomo con piena redenzione la fanno il nuovo Adamo e la nuova Eva, chiaramente qui il nuovo Adamo è il protagonista principale, d'accordo, e la nuova Eva è subordinata e dipendente, però dire che è corredentrice vuol dire che si dice tecnicamente la riconciliazione con Dio, quindi l'acquisto dei meriti con cui noi possiamo rientrare in grazia ha coinvolto Maria Santissima, è una cosa grossa, io capisco che sia una cosa grossa questa qua, quindi vuol dire che dobbiamo dire grazie a lei, anche a lei subordinatamente certamente a Gesù, semplicemente per essere salvi, quindi per essere stati riconciliati con Dio, è una cosa grossa questa, io qui un'allusione ce la vedo e sono sicurissimo che il nostro Signore questo desideri. Poi c'è la seconda parte che sembra estendere il discorso dalla, come dire, da questa problematica, da questa più che problematica, tematica specifica, dilatandola un po', parlare e discernimento per obbedire a Dio e discernimento per obbedire agli uomini. Qui c'è la grande questione esistenziale, morale, cioè il conflitto che può esserci a volte tra l'obbedire a Dio e l'obbedire agli uomini di cui parla anche San Pietro e gli atti degli apostoli quando gli dissero guarda che tu non devi predicare più nel nome del Signore e quelli hanno predicato lo stesso e si trattava delle autorità religiose dell'epoca. Dice, come vi permettete, noi vi abbiamo ordinato perché non ci obbedite? E lui ha risposto bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, il famoso canone Petrino, no? Quindi l'obbedienza è una grande virtù ed è un grande valore, però cosa dice qui Gesù? I miei discepoli sempre obbedite a Dio, a Dio si obbedisce, cioè l'obbedienza a Dio è assoluta, incondizionata e tra l'altro non sopporta eccezione né deroghe, i comandamenti non sono dispensabili da nessuno, l'obbedienza agli uomini non è né assoluta né incondizionata, ma è relativa ed è condizionata, obbedire agli uomini solo quando questi sono in piena comunione con Dio e questo è un discernimento che aspetta a noi, quindi Gesù sta già morendo, attenzione è perché dietro all'obbedienza ci si può nascondere anche per tacitare la propria coscienza o per fare delle cose che Dio non vorrebbe e quindi su questo bisogna avere un grande discernimento, io penso che tante cose che si vivono adesso a tutti i livelli, anche grosse situazioni problematiche di recente memoria credo che abbiano posto delle sollecitazioni sotto questo punto di vista quindi perché il tema dell'obbedienza è un tema delicato quindi importantissimo però delicato e qui c'è un'esortazione chiara appunto a fare attenzione a non diventare infedeli a Dio con la scusa dell'obbedienza agli uomini questo a me sembra abbastanza evidente stiamo parlando del 1995 quindi questo è un messaggio che ha quasi 30 anni ecco io passerei sì Don Leonardo per sapere quando gli uomini sono in comunione con Dio bisogna avere anche una certa conoscenza e formazione in termini di dottrina di morale tutta la sua pastorale sia orientata in questo senso di formare il cristiano in modo che possa discendere capire cosa si può fare cosa non si può fare è così è certo è evidentissimo perché la comunione con Dio non è una cosa un sentimento vago e soggettivo o emotivo è un fatto oggettivo tu sei in comunione con Dio se professi la retta fede e se vivi secondo la volontà di Dio così come esplicitata nei comandamenti e nella morale sono due cose su cui il magistrato della chiesa è competente appunto la fede e la morale da cui non ci si muove perché il grosso rischio è quello anche di deformare Dio e portarlo magari su campi su terreni che non li competono proprio oggi c'è anche un rischio di strumentalizzare e dire che Dio è lì e Dio c'è quindi avere le idee chiare avere i fari ecco che orientano la nostra la nostra strada la nostra vita spirituale è credo che sia una cosa importantissima fondamentale ah sì sì le mie antichissime prediche da giovanissimo prete erano come dire le bordate contro la fede fai da te perché oggi c'è la fede fai da te la morale fai da te e soprattutto c'è l'immagine cioè veramente siamo stati noi a essere stati creati a immagine di Dio ma oggi il problema è che Dio viene rielaborato ad immagine dell'uomo questa è una cosa terribile questo qui cioè ci si costruiscono delle idee di Dio completamente sballate noi non possiamo costruirci un'idea di Dio arbitrale noi dobbiamo Dio nessuno l'ha mai visto però da quello che è la liberazione pubblica da quello che è la testimonianza dei santi noi possiamo e dobbiamo farci un'idea certamente molto imperfetta ma corretta almeno e adeguata di chi Dio è e questo è fondamentale perché non è che cioè certo ecco Don Leonardo possiamo passare al successivo messaggio che è quello del 25 febbraio 1996 prego miei cari con la mia morte e la mia risurrezione ho prospettato a tutta l'umanità di poter raggiungere le altezze più alte qualcuno coraggiosamente mi ha imitato una gran parte le ha respinte e le respinge rimanendo così piccoli uomini non potendo mai più volare non potendo vedere nulla di sopra della terra misere anime soffocate dal mondo impregnate di orgoglio di miserie umane miei cari grande la grazia che è scesa sopra di voi ogni momento io vi posso far volare se venite con me vi conduco nell'angolo più remoto del mio cuore dove sono nascosti i segreti finora mai svelati sulle grandezze della madre amorosa e qui nel cuore del mio cuore io da ora in poi vi condurrò spesso lei l'immacolata dello spirito santo vuole donarvi o figli della mia opera d'amore la luce di dio e le virtù che in lei dio vive e per lei dio comunica alle anime di buona volontà vi benedico tutti questo è un messaggio veramente assolutamente spettacolare bellissimo che prospetta quella che è la quintessenza della vita autenticamente cristiana che è una vita stupenda meravigliosa bisogna notare il termine volare raggiungere le altezze più alte questi uomini che nella loro piccineria non volano è Gesù che dice in ogni momento io vi posso far volare questo per me è un punto assolutamente cardine anche perché questo richiama un po' anche l'esperienza personale di come è nata la mia vocazione anche sacerdotale chi mi conosce lo sa io l'ho visto che significa avere una fede che sposta le montagne e che fa veramente superare situazioni di morte e di sofferenza fuori del comune attraverso la la sofferenza e la morte da santo del mio caro amico francesco insomma chi mi conosce la sa questa storia qui quando c'avevo 22 23 anni quindi io di questo ne sono non convinto convintissimo certo qualcuno mi ha coraggiosamente imitato ma la sta grande maggioranza le ha respinte le spinge rimanendo così piccoli uomini questa è la grandissima tragedia questa qui io conosco sto approfondendo anche lo dice anche qualche amica prima gli iscritti della divina volontà che tra l'altro proprio durante la meditazione di questa mattina dico adesso mi metterò a studiare meglio i messaggi di schio perché il titolo di regina dell'amore cioè la divina volontà detta in due parole cioè 36 volumi di iscritti è il motore dell'amore cioè è ciò che mette in atto dentro e fuori la santissima trinità il mistero dell'amore la madonna è la madre della regina del regno della divina volontà lei ha legato la sua volontà a quella di Dio fin da quando è stata concepita quindi che cosa significa se la divina volontà abita nella madonna la madonna non sa fare nient'altro che amare in ogni cosa come come Dio quindi ma altro che che volare no una vita di questo genere è una vita veramente meravigliosa nel senso si può stare in tribolazioni in angoscia in persecuzioni tutto quello che uno vuole ma quando dentro c'è la sorgente non ti fa né cazzo cioè ti scivola come dire ti ti scivola tutto addosso sì vabbè qualche cosa un pochino ti tocca ti scuote ti magari ti pure ferisce un po' ma è tutta roba di superficie come io faccio spesso l'immagine del mare in tempesta però non il mare l'oceano in mezzo all'oceano atlantico se lì scoppia una tempesta certamente in superficie succede alla fine del mondo ma se uno scende ma neanche tanto di 10 o 20 metri sotto è sempre tutto calmo le tempeste sono sempre fenomeni superficiali quando una persona vola quindi che cosa vuol dire fa fruttificare al massimo le grazie anzitutto del mistero della redenzione della morte della risurrezione di nostro signore Gesù Cristo cioè vive così vive cioè l'esperienza che ho vissuto con questo cioè voglio vedere quale ragazzo a 22 anni si becca un tumore peggiore tra i peggiori che possono capitare con tutto il carico di sofferenze e di sconvolgimento di vita è capace a dire io ringrazio Dio perché sta cosa è capitata a me e non a un altro ragazzo come noi o poco prima della morte dire cioè io ho chiesto a Gesù che mi guarisse ma mamma Gesù non mi guarisce io sono pronto facciamo la volontà di Dio e tu ricordi che c'è un altro figlio nelle condizioni in cui stavo io l'ho visto con gli occhi miei insomma dentro era diventato bianco con più bianco dei muri che c'ho davanti e di dietro con le dita screpolate con le labbra screpolate senza manco più un capello cioè sembrava veramente insomma dire quelle cose in quelle circostanze non è una cosa non è una cosa umana questa è la prima parte chiaramente che cosa ostacola questo soffocate dal mondo impregnate di orgoglio e di miserie umane soffocate dal mondo c'è la parabola del seminatore le spine proprio una citazione quasi letterale però anche impregnate di orgoglio la testa delle persone è terribile e di miserie umane e nella seconda parte però anche qui c'è un po' processo inverso rispetto alla prima perché nella seconda parte passa da da questo diciamo da queste considerazioni in generale quindi sulla eccelsa vocazione dell'uomo sulla possibilità di condurre una grande vita se si accolgono le grazie della redenzione è al segreto di Maria dicevi che vi conducono all'angolo più legomodo del mio cuore dove sono nascosti anche qui i segreti finora mai svelati sulle grandezze della madre amorosa e qui nel cuore del mio cuore io vi condurrò spesso quindi ma soltanto Gesù ribadisce la dottrina tradizionale negli scritti dei santi mariani cioè che Maria Santissima è una via privilegiatissima per poter raggiungere le vette dell'amore e della santità questo basta leggere Salve G. Maria Grignon da Monfort che è chiarissimo ma che ci sono anche segreti finora mai svelati questo conferma quello che diceva San Massimiliano Maria Golbe che di Maria non si sa quasi nulla e che Gesù vuole condurci lì e sto facendo un ciclo di catechesi che proprio sulla sulla consagrazione a Maria c'è un contesto che ho scritto che adesso è stato finalmente pubblicato anche in versione cartacea che si chiama la consagrazione a Maria qui fa riferimento a un punto che San Luigi diceva è il punto più più delicato della vita di uno con Maria che è vivere in Maria fare tutte le cose per mezzo di Maria un po' si capisce e si riesce a fare con Maria pure per Maria pure ma in Maria entro certi limiti perché in Maria vuol dire che tu entri dentro un mondo tutto divino che noi non conosciamo e San Luigi dice non ci entra se non chi si dispone con una vita di fedeltà a ricevere questa grazia straordinaria ma qui di questa parla cioè io vi conduco nel cuore del mio cuore la chiamano così la Madonna per conoscere i segreti finora mai sverati sulla grandezza della madre amorosa quindi Gesù questo lo vuole le virtù che in lei Dio vive impressionante e che per lei Dio comunica le anime di buona volontà per lei per mezzo di lei grazie a lei ecco quindi è veramente uno splendido messaggio questo veramente straordinario ecco da un lato vediamo Don Leonardo quasi una tra virgolette un'ansia di Gesù di trasmetterci che noi conosciamo ecco le grandezze di Maria ci vuole portare nel cuore proprio nel centro del suo cuore nei luoghi ancora reconditi del suo cuore quindi pensiamo che è Dio quindi la divinità che ci vuole portare in luoghi spirituali inesplorati inaccessivi impensati e quindi ci vuole trasmettere la grandezza di Maria dall'altro ecco mi è venuto in mente lo cito proprio brevissimamente un messaggio proprio di primissimi tempi era il 2 dicembre 85 pensate era lunedì vi dico che era lunedì perché ricordo che la notizia delle apparizioni andò su tutti i giornali il martedì 3 dicembre 85 quindi è il giorno prima che scoppiasse la bomba a schio perché poi sia le testate nazionali che locali riportarono la notizia di queste apparizioni a tutta pagina quindi sentite cosa diceva Maria un giorno molto vicino dovrai dire ai responsabili della chiesa che Gesù vuole la madre sua regina del mondo e regina dell'amore e non permetterà mai l'errore di allontanarla dagli altari si unisca la chiesa però senza cedere a ricatti o a compromessi il mondo vuole Maria e Maria salverà il mondo se ascolterete e vi convertirete quindi ci metteva di fronte il pericolo di quel falso ecumenismo per cui ecco pur di coalizzare ecco magari non so il mondo protestante e avvicinarsi a avvicinare le varie le varie parti ecco della cristianità c'era questo pericolo di togliere a Maria i privilegi quindi di derubricarla come si suol dire è impressionante questo messaggio cosa dice Don Leonardo esatto qui si va esattamente in direzione contraria quindi anziché andare oltre come dire si minimizza o a volte si ignora anche quello che già è stato detto di di Maria Santissima il problema io spiego sempre è vero che nel dire la verità si può mancare alla carità ma è vero anche che in nome della carità non si può e non si deve mai mancare alla verità ci sono questa corrispondenza bionivoca tra queste cose cioè la carità non può mai essere contro la verità mai quindi l'ecumenismo non può essere mai condotto a prezzo di ma ne ha anche tante cose che si inventano una diavoleria è la gerarchia dei dogmi dice vabbè ma ci sono dei dogmi i dogmi importanti sono la Santissima Trinità sono che Gesù Cristo è il figlio di Dio è il Redentore si poi i dogmi mariani si per carità ci sono ma sono mica con il dogma della Santissima Trinità quindi questi argomenti un po' speciosi e veramente infernali per mezzo dei quali si scende poi a compromessi ma questo non può non può e non deve mai essere per nessun motivo non si può agire in questo modo ecco direi di andare all'ultimo messaggio visto che ancora il tempo purtroppo scorre inesorabile e quindi ascoltiamo e meditiamo brevemente il messaggio di Gesù del 21 settembre 1996 questo avverto subito questo è molto forte questo qui purtroppo a quasi 30 anni di distanza credo che si capisca meglio rispetto al 21 settembre del 1996 io ho qualche annetto erano proprio i giorni in cui entravo in seminario il 21 settembre 1996 erano passato tanto tempo scenda su di voi la mia benedizione per amore del vostro lavoro e del vostro compito ora poiché l'opera che voi da tempo avete intrapresa e condotta a termine a gloria della mia vergine madre giunge a nuovi ed altri uomini quest'opera mariana sarà compresa solo da persone profondamente credenti e mariane tuttavia partendo da queste anime lo spirito dell'amore e dello zelo e della devozione a Maria inonderà come un torrente di grazia nei cuori e nella vita di questo e del futuro mondo miei discepoli il tormento dell'incertezza diventa sempre più grande nella mia unica e vera chiesa e nel suo capo visibile mantenete volontà di offrire pregare e operare per la vittoria di questa chiesa il segno e la celeste conferma di questa vittoria è la signora dell'apocadisse l'eletta creatura del padre celeste la mia vergine madre l'immacolata sposa dello spirito santo ma io vi dico i molti che operano per rovinare la chiesa sono ingannatori e ingannati lavorando per la rovina della mia chiesa si fa lavoro inutile anzi è illusione ed è peccato spaventoso coloro che fanno questo lavorano per la loro propria rovina e vanno incontro alla loro eterna dannazione a voi dico miei cari ho tolto la vostra vita dalla inutilità ora non potete sciupare più nulla dei vostri pensieri e delle vostre azioni voi sapete di essere stati chiamati al regno dalla bontà del padre ed è proprio quella bontà che vi comincia a sapere che ora il vostro lavoro vi fa liberi ma anche edifica sulla terra ogni giorno il regno di Dio ancora vi benedico qui ci sono chiaramente tre parti di questo messaggio la prima poi la parte centrale e poi l'ultima che richiama a concludere la prima dentro ecco c'è incastonato un po' il cuore del messaggio che è abbastanza forte che va decodificato allora anzitutto una cosa importante qui Gesù parla di quest'opera chiaramente sicuramente qui Oscar e le persone che ne sono più coinvolte hanno maggiore competenza di me a a spiegare a far comprendere e che è un'opera molto molto importante da svolgere dentro l'attuale contesto storico-culturale certamente ecclesiale soprattutto quando Dio si muove e fa qualcosa non è che la fa così quindi questa cosa andava fatta esattamente quando è stata fatta quindi nel tempo in cui è stata fatta e va avanti ancora che cos'è certamente quest'opera promuove lo spirito dell'amore dello zelo e della devozione a Maria e questa è un'opera assolutamente importantissima perché Maria è stata stabilita come spiega più avanti come veramente in questi tempi difficili strumento proprio di salvezza allora sono circa due il primo libro che scrissi tanti anni fa che pubblicai era si chiamava Le apparizioni a Maria le apparizioni non a Maria di Maria e se uno va a vedere prima delle grandi apparizioni degli ultimi due secoli non ci sono apparizioni salvo Guadalupe il fenomeno delle apparizioni mariane non è racconce negli ultimi duecento anni c'è stato un incremento è vero che stanno anche anche adesso in giro si va a fare discernimento perché so troppe le apparizioni mariane quindi ce ne sono alcune ogni tanto qualcuno esce fuori che sono palesemente taroccate perché poi il diavolo ci si mette di mezzo però ce ne sono tante autentiche tante tantissime perché una tale e tanta diffusione di queste apparizioni negli ultimi due secoli perché se uno studia un pochino di storia noi abbiamo una data che è fondamentale che è il 1789 la rivoluzione francese ha cambiato la storia dell'occidente questo ci dobbiamo mettere bene in testa perché è stato il punto di arrivo e il punto anche di attuazione pratica di sono i più grandi mali nel corso della storia che l'illuminismo l'illuminismo è fondamentalmente il primo grande tentativo di dire Dio non ci serve facciamo da soli con la nostra testa e la rivoluzione francese è l'attuazione pratica a livello politico ci pensiamo noi cioè libertà di te fraternità che adesso in maniera abbastanza ingenua a volte viene anche promulgato e decodificato in ambienti cristiani come se fossero nostri valori noi crediamo nella libertà certamente noi crediamo nell'uguaglianza certamente e crediamo anche nella fratellanza certamente ma non nel modo con cui la propugnano loro che è molto differente perché loro libertà è svincolamento da ogni legame con il trascendente e con i valori oggettivi cioè la libertà intesa come la capacità dell'uomo di autodeterminarsi in maniera autonoma e indipendente ma questa è la libertà satanica questa qui questa è la libertà di Aleister Crowley cioè e fai quello che ti pare che non c'è niente a che fare con la libertà dei figli di Dio è la fratellanza illuminista che poi è simile alla fratellanza massonica è l'abbattimento l'appiattimento che è una cosa molto negativa di tutte quante le 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 belle differenze che ci sono anche differenziazioni tra culture tra popoli che certamente dobbiamo trovare in modo di convivere in maniera pacifica non devono essere livellate o annullate ecco a tutti quanti i discorsi che si fanno cioè vabbè adesso non abbiamo troppo discorso non voglio troppo approfondire torniamo un attimo al messaggio se no questo ci porta troppo lontano no quindi in ogni caso Maria è un punto fondamentale di soluzione di affrontamento dei problemi che abbiamo adesso inonderà come un torrente di grazia nei cuori e nella vita di questo e del futuro mondo ora per vivere tempi di profonda trasformazione e travaglio come quelli attuali la prima cosa prima di ogni altra cosa è fare il pieno di grazia come la piena di grazia in continuazione la madonna è la piena di grazia la prima cosa è che noi facciamo il pieno di grazia e soltanto alla scuola e sotto la guida di Maria impariamo come stare custodire e crescere nella vita di grazia perché quando arrivano i momenti difficili senza la grazia siamo completamente perduti dopodiché Gesù passa alla parte più forte e centrale il tormento dell'incertezza diventa sempre più grande nella mia attenzione unica e vera chiesa anche questo insomma un discorso unica e vera chiesa è la chiesa cattolica l'unica e vera chiesa di chiesa io lo dico ecco è nel suo capo visibile però afferma che il tormento dell'incertezza sta attanagliando l'unica vera chiesa e il suo capo visibile mantenete volontà di offrire pregare e operare per la vittoria di questa chiesa e il segno e la conferma di questa vittoria è la signora dell'apocalisse qui chiaramente fa riferimento a apocalisse 12 la donna vestita di sole ecco la luna ma quello è un momento drammatico del libro dell'apocalisse perché sì c'è certamente la donna vestita di sole ma c'è anche la furia del drago che gli fa la guerra sotto tutti i punti di vista che cerca di sbranare e uccidere il figlio appena nato eccetera e da dove vengono questi tormenti dell'incertezza dai molti che operano per rovinare la chiesa che sono ingannatori e ingannati il fenomeno veramente drammatico in questo tempo anche chi ha studiato un pochino la storia della chiesa è che i istruttori i picconatori non vengono da fuori ma vengono da dentro purtroppo e sono tanti e questi certamente alcuni saranno anche ingannati nel senso che magari in buona fede si pensano che tante cose chi lo sa sono mutevoli possono cambiare altri invece sono ingannatori non è sempre facile discernere in ogni caso quello che fanno stanno lavorando per la rovina della chiesa che è peccato spaventoso e a chi dice Gesù coloro che fanno questo si che lavorano per la rovina della mia chiesa lavorano di fatto per la propria rovina e vanno incontro alla loro eterna dannazione la chiesa non sarà rovinata del tutto da questi anche perché ci pensa la celeste condottiera ma capiamo no l'unione con maria in questi contesti è assolutamente fondamentale perché san luigi maria grignonda monfort dice queste cose che è impossibile che un devoto figlio e servo di maria cada in due cose primo il peccato mortale e secondo è l'inganno del demonio e dice se il signore dovesse permettere che Dio non voglia uno cada in peccato o sia ingannato se una persona sinceramente devota alla Madonna sia peccato lo farà rialzare e sia ingannato glielo farà capire ma se non ci abbiamo il baluardo della signora dell'Apocalisse che facciamo? Corriamo il rischio di essere travolti sempre il libro dell'Apocalisse da quel mare che vomita addosso la bestia contro la donna e i figli della sua discendenza è è una famiglia a fine pure noi chiude chiaramente ribadendo l'importanza che dentro questo questa come dire questa operazione di di difesa di come dire di antidoto a questi mali che attanagliano la chiesa nel tempo presente c'è l'opera che sta facendo e che ha iniziato la Madonna attraverso la realtà delle apparizioni di schio e quindi ho tolto la vostra vita dall'inutilità ora non potete sciogliere più uno dei vostri pensieri e voi sapete che siete stati chiamati al regno della bontà del padre ed è proprio quella bontà che vi comincia a sapere che ho il vostro lavoro e vi fa liberi ma edifica anche sulla terra ogni giorno il regno di Dio quindi attraverso la risposta a a queste operazioni e a questi interventi mariani provocati dal cielo si contrasta l'opera di rovina della chiesa con la diffusione del regno di Dio grazie a tutti